buon pomeriggio ragazzi dal vostro cart al curva nord allora ragazzi questa sera alle 8 scusate alle 9 live straordinaria con un ospite d'eccezione e questo ospite ha un nome che tutti voi youtuber e utenti youtube conoscete sicuramente sto parlando del mitico fratello nerazzurro gialluca castellano ragazzi questa sera mentre lui seguirà la nazionale in diretta e anche in diretta con voi questa grandissima intervista vi aspetto in molti e parleremo commenteremo l'italia e vi aspetto con molte molte domande